Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna resterà chiuso per lavori fino al 28 febbraio il tratto tra Aglio e Roncovilaccio. Ancora verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1, stanotte in orario 22.06 saranno chiusi i tratti tra Roncovilaccio e Pian del Voglio in direzione Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. A Firenze è stato sospeso l'obbligo di spostare le vetture in occasione della pulizia delle strade, no multe e rimozioni fino al 31 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!